Tra le prime cose che ha raccontato, spiegando la sua scelta, è stato il numero esorbitante di rifiuti da parte dei medici che non la volevano operare. La storia di Francesca Guacci, la fit influencer di Massanzago, che a 23 anni si è fatta asportare le tube per non rimanere incinta, sta creando non poche polemiche. A spiegare il perché delle posizioni dei medici che hanno rifiutato l'intervento è il ginecologo Gianfranco Iorizzo, coordinatore nazionale del comitato percorso nascita del Ministero della Salute e responsabile del servizio di medicina prenatale dell'Utl 6 e Uganea. L'obiettivo del nostro servizio sanitario nazionale è quello di migliorare le condizioni di salute dei pazienti, migliorare le condizioni di salute qualora compromesse. Nel momento in cui il paziente accede a noi, noi gli cerchiamo la miglior via mantenendo fede alla demedicalizzazione, c'è riducendo interventi chirurgici e atti terapeutici e quindi se ci viene chiesta la pianificazione familiare, noi prima spieghiamo in modo consapevole, soprattutto a una giovane ragazza, che esistono i primi metodi che sono il conto dei giorni, il test del muco, c'è la pillola anticoncezionale, c'è l'anello vaginale, c'è il cerotto, c'è la spirale. Oltre ai numerosi metodi contraccettivi a disposizione c'è anche un aspetto di appropriatezza, uno dei criteri per essere sottoposti all'intervento di rimozione delle tube a scopo contraccettivo è anche l'età della persona, che va dai 35 anni in su. Per arrivare all'intervento chirurgico noi ci arriviamo se hanno dei criteri di elegibilità, che devono essere intanto un'età materna, che abbiamo posto, le società scientifiche da ormai 30 anni l'hanno identificata intorno ai 35 anni, aver avuto uno più figli, oppure essere stati sottoposti a uno più cesare, allora lì è indipendente dall'età materna. Altrimenti ci sarebbe un accesso indiscriminato perché comunque avrà i suoi rischi e benefici. E la parte chirurgica, non solo di questa regione ma di tutte le regioni italiane, ha una serie di priorità, che prima sono gli interventi oncologici, poi gli interventi di emergenza, e poi ci sono questi che vengono chiamati interventi elettivi. Grazie a tutti.